Eccoci qua ragazzi, il futuro è ora con Anoris di Aesai e della Saidexersi è raggiunto un livello di protezione massimo mai raggiunto fino adesso a livello mondiale. Anoris di Aesai è il primo seggiorino auto con integrato un AIPAC per proteggere il nostro cuore contro lo stesso sistema di sicurezza che protegge noi. Amici, oggi è un evento eccezionale quello di presentare un seggiorino auto che dava comodità al piccolo, di sedere rivolto verso il senso di mancia. Noi possiamo tranquillamente vedere il nostro piccolo da uno specchio, e sappiamo che è protetto da un sistema effetto. Sa effetto chiaramente proteggere i suoi bebè con il sistema LSP laterale che riduce i danni da impatto laterale. Il pamperino qui non richiede il sistema di cinture fisse che protegge il bimbo dagli ulti e dai danneggiamenti interni e praticamente un seggiorino che arriva a coprire fino a 155 centimetri e dà il massimo della sicurezza ad oggi inventato. Che c'è da dire? Vi aspettiamo qui in store per Ammirambo e per Camino. Un abbraccio da Bellaviva Mega Store.